Il motore, il martirio Valerio, Marco e il boss Ma non di roba malavigliosa, di roba seria Giocosa, fatta apposta per far divertire i pubblici che mangiandani perché io ho fatto 50 anni in cuore Allora in macchina si mangia Seguite la nostra avventura francese, dove si va? In Francia, a Parigi A Parigi E non parli dei prossimi suoi? No, per cui venite poi io Andiamo a farci un ciclo? Allora ragazzi, con questa macchina straordinaria, assieme a Valerio, Marco e il boss, si va a Parigi Seguite lì Ok, grazie Ciao ragazzi Bene, ci vediamo in Francia E mi raccomando, venite con noi Non dovete seguirci solo su Youtube Dovete proprio venire con noi Lì possono venire tutti Anzi, più siamo, più ci divertiamo Facciamo festa Ciao 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 Ciao